Buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata e di nuovo buon giovedì santo a tutti, mi raccomando non perdetevi gli appuntamenti che le varie barrocchie in giro per l'Italia e per il mondo stanno proponendo via social, via YouTube, anche via mass media, internet, su TV 2000 alle 18 la celebrazione del giovedì santo di Papa Francesco, poi credo all'evento o alle 21 un altro appuntamento sempre in riferimento al giovedì santo. Allora piccole e brevi notizie, come breve sarà anche questa diretta Allora per l'appuntamento di Smackdown di domani, nella notte tra venerdì e sabato avremo il rematch tra le Kabubi Warriors e le neocampionesse di categoria di coppia femminile Nikki Cross e Alexa Bliss inoltre ci sarà al centro dello show ovviamente il nuovo campione universale Braun Strowman settimana prossima avremo ad NXT, credo dovrebbe essere riprodotto in maniera integrale tutto il torneo il primo ed unico torneo dei pesi leggeri perché poi di dalla cintura al primo campione appunto dei pesi leggeri nella storia della WWE della storia recente nella All Elite Wrestling settimana prossima avremo un No Alls Barred ovviamente in arena vuota o semi vuota per il titolo massimo mondiale dell'All Elite grande scazzottata tra Johnny Gargano e Tommaso Ciampo in questo episodio di NXT per conclusione vi ricordo lo sapete i miei social youtube facebook instagram twitter sono lì nicoladelucia su youtube su facebook la paginetta facebook dove sto trasmettendo ora deluxe television twitter nicoladelucia instagram nick deluxe94 tutto attaccato con 2c e non con 2k su youtube oggi altri contenuti nuovi vi ringrazio perché come al solito siete in mondo su tutti i social dove sono parte dove siamo tutti quanti parte integrante bene buon proseguimento di giornata che sia un periodo basquale molto sereno nonostante la situazione abbastanza tragica della pandemia che però piano piano sicuramente ne usciremo fuori grazie a tutti ci becchiamo quanto prima ciao a tutti buona pasqua mi raccomando non abbuffiamoci a tavola manteniamoci e soprattutto facciamo un movimento in casa non rimaniamo sempre seduti io per esempio mi sono allenato un po' con la pallina lanciandone secchiallo per riprendere un po' tra virgolette gli allenamenti del basket bene grazie a tutti ciao alla prossima ci becchiamo quanto prima ciao 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 ciao